Siamo in compagnia di Luca Villa, Luca innanzitutto iniziamo da queste 200 maglie giallù, forse oggi alla fine avresti potuto festeggiare diversamente questa giornata, però 200 partite in maglia giallù sono un grande traguardo. Sicuramente un grande traguardo arrivare a 200 partite nella pergolettese, è chiaro che mi sarebbe piaciuto festeggiare questo grande traguardo con una vittoria, sicuramente la partita si era messa nel migliore dei modi, primo tempo, credo che comunque primo tempo abbiamo dimostrato di aver fatto un grande primo tempo e sicuramente di aver messo in difficoltà San Giuliano, non solo in fase offensiva ma anche in fase difensiva, siamo andati spesso in avanti, abbiamo cercato di limitare quelle che erano le loro qualità e ci siamo riusciti alla grande. Secondo tempo, forse perché abbiamo magari sprecato troppa energia primo tempo, ci siamo un po' abbassati e abbiamo concesso qualcosa in più, loro poi con un paio di cambi hanno cambiato anche il loro modo di giocare perché cercavano più la fisicità di Miracoli che è un giocatore che conosciamo e un po' siamo andati in difficoltà sulle seconde palle, ci siamo un po' abbassati e poi quel gol col tiro da fuori che era evitabilissimo perché comunque è una calciata indisturbata e nasce da una rimessa laterale e poi un ennesimo gol preso da palla inattiva che è un po' il nostro punto debole e fino a quel momento mi è perso di capire da voi che il San Giuliano non avesse ancora battuto nemmeno un calcio d'angolo. Sicuramente è una partita che poteva essere portata a casa benissimo e oggi i tre punti valevano doppio perché anche le altre partite che interessavano a noi delle 14.30 sono finite tutte in pareggio, quindi tranne la vittoria della Triestina con l'Albino e l'Effe, però adesso ormai è passata, è un pareggio che fa male sicuramente perché comunque quando sei in vantaggio di due reti devi cercare di chiudere la partita e di non far sì che l'avversario lo possa riaprire, noi l'abbiamo fatta riaprire forse troppo presto, in modo anche un po' ingenuo e quindi poi alla fine San Giuliano è riuscito a trovare il pareggio che è quello che credo che cercasse. A proposito di portare a casa la partita, sul 2-0 c'è stato quasi anche un momento in cui sembrava che poi con troppa facilità andate ad attaccare qualche giocata leggera di troppo, si aspettava più il terzo gol che il gol degli avversari, ma forse questo vi ha tolto la concentrazione di rimanere in partita? No, quello non credo, credo come hai detto te che comunque si poteva trovare anche il terzo gol perché l'occasione ce l'abbiamo avuto e il secondo tempo abbiamo battuto, come anche il primo tempo abbiamo battuto diversi corner, siamo arrivati spesso al cross, però non l'abbiamo trovato il 3-0 e poi magari col passare dei minuti loro hanno fatto dei cambi che un po' ci hanno messo in difficoltà e noi qualche giocatore era un po' sulle gambe, un po' di stanchezza e dopo il 2-1 non credo sia arrivato un po' di paura nella squadra, però ci siamo un po' abbassati e quindi magari abbiamo concesso qualche giocata a loro più facilmente, cosa che nel primo tempo invece non abbiamo quasi mai concesso perché credo che loro di occasioni nel primo tempo non ne abbiano avute, anzi noi siamo arrivati spesso a concludere in porta o comunque a fare due gol che non è una cosa scontata Mi ha dato una gomitata, penso si sia visto anche dalla tribuna ma anche dal campo poi io non mi ero nemmeno accorto che la palla sia finita in porta però non è che mi sono buttato a caso, l'arbitro aveva anche già fischiato prima del tiro Una sola considerazione, sono tante partite ormai in cui andiamo sempre a recriminare ci manca sempre qualcosa per portare a casa o la vittoria o comunque il punto se c'è sempre qualcosa che manca alla fine dovrebbe essere anche una questione di qualche carenza Sicuramente è un nostro limite, ecco perché quando sei in vantaggio di due gol e poi vai a pareggiarla due a due sicuramente vuol dire che qualcosa non è andato come doveva andare Già in altre occasioni purtroppo magari abbiamo preso gol nei minuti finali o magari abbiamo avuto un po' di rammarico al termine della partita perché non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni e poi magari non abbiamo portato a casa quello che meritavamo Adesso anche questa partita è finita quindi bisogna cercare di accantonarla più velocemente possibile anche se c'è il rammarico perché oggi i tre punti erano importantissimi Sicuramente prepareremo al meglio durante la settimana il prossimo impegno contro la Propatria che è una squadra che conosciamo, sappiamo che è una squadra comunque che ha grandi qualità e ha trovato anche un sistema di gioco che gli dà sicurezza e che gli ha permesso di ottenere tanti punti e trovarsi in una posizione comoda di classifica È una squadra che all'andata abbiamo battuto e sappiamo anche dove poter metterli in difficoltà e quindi faremo di tutto per, anche se siamo in trasferta, per andare a bustar Sizzio e fare la nostra partita e portare tre punti a casa, ecco, perché quello è l'obiettivo Va bene, grazie Grazie